eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli ragazzuole belle buona serata di questo lunedì 20 marzo 2023 ore 19.09 le notizie sono belle fresche allora ragazzuoli belle ragazzuole belle ve lo dico subito vi avviso se vuoi sentir parlare di calcio di potetici acquisti di calcio mercato del milan non guardare questo video anzi da oggi inizia una serie di video nuovi che parlano della macroeconomia che ruota intorno al nostro milan e che contagia anche il nostro milan e anche le nostre vite per cui ti invito ti invito seriamente se non vuoi sentire questi argomenti che parlano di macroeconomia intorno al nostro milan e che riguarda il nostro milan non guardare i miei video vai da un'altra parte fatti una risata dall'altra parte si spensa da una parte e siamo tutti felici per cui uomo avvisato donna avvisata mezzi salvati è uno spettacolo perché perché mi sono stufato di parlare delle solite cose siccome io so molto di più ma perché ogni santo giorno leggo sono abbonato praticamente a quotidiani online e in più praticamente mi informo mi informo è una mia prerogativa personale voglio portare anche a voi certi ragionamenti fatti in modo molto semplice alescuore rosso nero 2.0 si evolve lo ripeto non siete interessati a questo volete sentire parlare di giocatori che il milan potrebbe comprare piuttosto che cambiate completamente il canale questo è il canale della verità della verità secondo la mia visione questo ovviamente per il canale lo gestisco solo io e nessun altro se ti fa piacere lo ripeto ancora mi segui se no amen e batte la pesca voglio ricordarvi la situazione classifica questa napoli 71 punti lazio 52 dopo la vittoria di ieri nel derby contro la roma inter 50 dopo la sconfitta contro juventus milan 48 questo milan 48 al quarto posto ci dice che noi siamo ancora lì per combattere per la zona champions tutto in mano ai nostri giocatori e al nostro allenatore punto è a capo e poi parleremo bene anche di questo però ci siamo ben capiti certe scelte da parte della nostra esigenza la scorsa estate sono state completamente sbagliate vedesi l'acquisto in toto per il budget il budget dato da elliot con approvazione anche di redbor di 50 barra 60 milioni di euro perché sono 50 e qualcosa in più che è stato speso in totale per de keteler punto è capo a posteriori solo ad oggi solo ad oggi e non quando è successo ad agosto si può dire che questa visione non ha avuto ragione punto a capo il mercato del mina i soldi non li spendo io per il mia non li spendi tu li spendi le responsabilità se le prendono chi lo fa guardiamo avanti forza mina sempre comunque ovunque questo è il nostro mantra e su questo non ci piove allora avete visto in copertina la scritta e il titolo di un articolo giornalistico riportato che è un articolo che parla praticamente di un asset di black stone che praticamente è saltato con le gambe all'aria e perché vi parlo di black stone allora ve lo dico subito così tolgo il dente e tolgo il problema di spiegarvi questa cosa perché jerry cardinale voi lo sapete un ex manager di goldman sachs goldman sachs è strettamente collegato questa banca d'affari una delle più famose più potenti al mondo banca d'affari collegata strettamente anche a black stone ma chi è black stone prima di tutto qualcuno di voi lo so già che lo sa ma io lo devo spiegare ai più che non lo sanno allora le tre più grandi sorelle dell'alta finanza del mondo che hanno in mano praticamente quasi tutti i soldi del blocco più che altro del blocco occidentale del mondo anzi in toto del blocco occidentale del mondo sono black stone state street e vanguard sono tre società tre tre più grandi società finanziare in assoluto al mondo che ripeto gestiscono tutti i nostri soldi del blocco occidentale completamente per cui di un miliardo di persone giusto e anche qualcosa in più in altri paesi del mondo in maniera un attimino differente d'altronde lo si vede adesso con la guerra che c'è in ucraina oggi ad esempio russia e cina si sono incontrati per parlare anche di questo famoso mondo che noi sentiamo un mondo multipolare giusto rewind ancora jerry cardinale il fondatore di redbird insieme a suo socio in affari era un grande manager di goldman sachs a pieno merito per le sue doti lavorative intorno a goldman sachs si stacca fonda redbird goldman sachs è strettamente collegata a black stone allora ragazzi black stone la società finanziaria insieme ad altre due sorelle più grande al mondo specializzata nella private equity cioè finanziamenti investimenti immobiliari eccetera udite udite che fatturato hanno no ma voi guardate voi non ci credete allora black stone fattura l'americana società finanziaria americana black stone in un anno fattura 7 mila e 100 e la vedico la cifra esatta 19 miliardi di dollari 7 mila e 100 19 miliardi di dollari lo ripeto allora non è un miliardo di dollari eh non è un miliardo di dollari non sono due sono 7 mila 119 miliardi di dollari roba che se vogliono si comprano tutta la premier league tutte le squadre della serie a tutte le squadre della liga e tutte le squadre della bundesliga ci siamo capiti ripeto black stone questa società finanziaria insieme black stone da sola non vanguard non state street ma black stone fattura 7 miliardi 7 mila 119 miliardi di dollari una cifra apocalittica e volete sapere l'utile netto di black stone adesso ve lo dico all'utile l'utile netto che capitalizzano quelle di black stone è di 103 miliardi di dollari lo ripeto utile netto cioè pulito di tutto proprio tasse pagate questo 103 miliardi di ragazzi ma io non so se voi vi rendete conto di cosa stiamo parlando cioè questi hanno in mano le nostre vite io parlo del blocco occidentale hanno in mano le nostre vite punto è a capo bene però come avete letto nella copertina il titolo di questo titolo giornalistico che ha ben spiegato che oggi ho letto bene adesso ve lo ripeto in parole povere anche molto brevemente per annoio gli arvi dice che anche se black stone cioè anche black stone va in un leggero default per un suo ramo d'azienda vuol dire che qualcosa non va nel nostro mercato finanziario occidentale qualcosa non va io vi dissi nell'ultimo video che la situazione silicon valley bank credit swiss che adesso credi swiss è stata assorbita con obbligo da unioni banche svizzera ubs praticamente non non sarebbe finita qui ma sarebbe proseguita in altro tanto è vero che oggi giornata c'è un nuovo campanello scusate d'allarme che si accende su due grosse banche europee che stanno chiedendo aiuto alla bce e la federal reserve vi sto dando una notizia in anticipo vabbè chi mi segue su instagram nel privato già lo sa questo serve per farvi capire sul perché è remunerativo investire nel calcio per redbird e gli altri fondi americani ecco perché ve lo spiego non perché me lo sono inventato dal nulla qualcuno di voi in instagram instagram privato me l'ha chiesto poi c'è stato qualcun altro me l'ha chiesto a questo punto ci faccio video da qua parte una serie anche nuova praticamente la società un ramo d'azienda di blackstone che oggi è saltato con le gambe all'aria beh non è proprio esattamente oggi qualche giorno fa è saltato con le gambe all'aria è una società finlandese la società si chiama sponda o i cosa fa sponda o i crea spazi per uffici e strutture per aziende cioè praticamente tu hai bisogno una struttura per la tua azienda loro te la creano tu hai bisogno uno spazio per il tuo ufficio loro te lo trovano te lo creano te lo costruiscono anche praticamente sponda o i questa società per spazi aziendali finlandese è stata comprata da blackstone nel 2018 per 1,9 miliardi di dollari giusto e fin qui ci siamo c'è un piccolo problema la guerra in ucraina sta rovinando le uova nel paniere a tutti a tutti anche più potenti e questo cosa vuol dire vuol dire che praticamente qualche giorno fa è andata in default questo ramo d'azienda di blackstone l'azienda finlandese sponda o i che blackstone ha comprato nel 2018 per un'obbligazione di 562 milioni di dollari blackstone ha coperto parte della cifra ma non del tutto e ha deciso di far andare questo ramo d'azienda di sua proprietà di questa azienda finlandese sponda o i che fa strutture aziendali spazi per ufficio tutto il resto di farlo andare in default perché blackstone ha calcolato che con gli interessi che ci sono in questo momento che roba da fuori di testa sempre in alzamento dei tassi interessi sia in america che in europa hanno deciso di farlo andare in default perché gli costava di più dover ripagare questo debito che doveva coprire blackstone del suo ramo d'azienda per cui hanno detto lasciamola andare st'azienda chi se ne frega per cui st'azienda finlandese è messa in croce e soprattutto c'è da dire anche che fitch lo studio praticamente che fa il rating praticamente di azienda e quant'altro ha declassato le note all'inizio di dicembre sottolineando le prospettive macroeconomiche che non sono diciamo buone per non dire disastrose diciamo che blackstone ha perso dei punti percentuali in borsa ma poi li ha subito recuperati perché vi ho detto cosa fattura blackstone le tre sorelle sono lo ripeto blackstone state street e vanguard questi praticamente comandano tutto però c'è un problema anche per loro e il problema è come vi ho detto adesso tassi interessi che schizzano le stelle investire su dei settori lavorativi adesso sta diventando altamente rischioso perché questa guerra sta rovinando le uova nel paniere a tutti e qui si è capita una cosa quello che è l'inizio che vi ho detto di questo video vi ho spiegato questa situazione clamorosa clamorosa e lo ripeto ci sono due banche europee che hanno chiesto non si sa il nome di queste banche europee sono due grosse banche europee che hanno chiesto aiuti alla bce alla signora come si chiama lei lagarda lei come cavolo si chiama non mi ricordo più e ai signori della federa reserve per avere soldi per poter sopravvivere praticamente il nostro sistema sta traballando poi non c'è né il fatto che tu vivi in una città ricca londra parigi milano piuttosto che non è che tu te ne stai al mare in costa smeralda in sicilia piuttosto che non c'è tra mazza quando la baracca crolla crolla tutto siamo capiti gli unici che ovviamente hanno sempre potere d'acquisto sono chi sono veramente ricchi ma chi se ne frega quello che conta in realtà è la maggioranza della popolazione non i pochi ricchi e sono quelli che mandano avanti il motore del sistema fatto tutto questo mappazzone di ragionamento che se tutti si è annoiato pace amen io l'ho detto all'inizio di questo video sono stato sincero non ti andranno questi ragionamenti vai da un'altra parte a vedere non c'è problema ma io ho un sapere quotidiano leggo molto e voglio raccontarle queste cose perché mi piace informarvi o il giorno che nessuno mi seguirà più come disse in passato chiudo il canale chi se ne frega nel senso mi dispiace per quelli che mi seguono sempre ma io vi mando sempre un abbraccio e vi ringrazio questo lo devo dire perché c'è sempre un grande seguito c'è uno share sempre alto rispetto agli iscritti del mio canale archiviato questo argomento si capisce come ho fatto ho scritto nel titolo per gli americani è remunerativo andare nel calcio perché perché il calcio non è l'azienda finlandese sponda o i si chiama così sponda o i che crea strutture per uffici e aziendali il calcio un'altra cosa il calcio è una questione di sentimento è una questione che noi nel bene o nel male lo seguiremo sempre il calcio veniva giocato anche durante la seconda guerra mondiale allora quello che voglio dire è investire nel calcio è la cosa quasi più sicura che esista dove praticamente non solo jerry cardinale ma qualsiasi fondo di investimento americano collegato indirettamente o direttamente a blackstone oppure a vanguard oppure a state street sono sicuri che ci guadagneranno sempre ragazzi io sono rimasto allibito di un'affermazione di jerry cardinale questo video poi non ha il senso di dover andare contro jerry cardinale noi dobbiamo ringraziare sia lui che prima ancora elliot hanno fatto hanno investito il nostro mina perché ci hanno permesso di sopravvivere e di migliorarci chiaro io sto dicendo un'altra cosa sto andando alla radice delle questioni per capire dove va il sistema capito avete capito quel concetto stavo dicendo no tutti quelli che sono collegati a questa cosa sono sicuri già di guadagnarci al cento per cento siamo noi tifosi che alimentiamo la baracca avete capito la nostra azienda il nostro acimino a 1899 perché è anche un'azienda come tutti i club di calcio non è altre aziende dove non c'è la passione del tifo chiaro sono rimasto lo stavo dicendo prima allibito della frase di jerry cardinale quella famosa intervista che ha lasciato qualche giorno fa jerry cardinale che lui ha detto non mi interessa vincere lo scudetto l'ha detto praticamente l'importante è stare lì e remunerare remunerare bene se lo dice lui io non sono completamente d'accordo anzi per niente sono d'accordo ha detto l'altro giorno nella stessa intervista mi sono dimenticato di dirvelo che lui jerry cardinale non sapeva che real madrid era il club più titolato al mondo e non sapeva quante champions league ha vinto il real madrid ma ragazzi ma ragazzi ma di che cosa stiamo parlando qua è solo una questione di soldi ma non è offendere nessuno è un dato di fatto noi l'unica cosa dobbiamo pregare è che questi facciano bene il loro lavoro partendo praticamente dalla proprietà fino all'ultimo nostro giocatore che deve giocare basta tutto qua per cui noi siamo in una botte di ferro con questa gente con Red Bull siamo in una botte di ferro però dovete sapere dove tutto parte e soprattutto dovete sapere che in questo momento investire nel calcio per questa gente è remunerativo Forza Milan sempre e comunque ovunque ci vediamo al prossimo video probabilmente domani vedremo ma penso di sì e adesso c'è la pausa delle nazionali vi mando un abbraccio ciao